Avendo la convinzione e la certezza che le tue qualità, se continui a lavorare in un determinato modo, prima o poi vengono fuori, quindi non bisogna farsi distrarre troppo da quello che accade fuori. Chiaro che San Siro è la gente, il pubblico, è un pubblico esigente, è un pubblico che ti mette pressione. Se carattericamente non hai questa forza di volontà, diventa difficile. Mi è capitato negli anni di vedere altre situazioni di giocatori che altrove avevano fatto bene e poi a San Siro facevano veramente fatica. Ho visto anche qualcuno piangere, però è la nostra professione. Bisogna avere veramente questa forza di volontà, questo carattere per venire fuori e credo che lui abbia tutti i mezzi per poterlo fare.